Dai ragazzi, sta per funzionare! E vai, funziona, funziona, e vai! Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale YouTube di 2D Tutore. Oggi abbiamo pensato di costruire una telecamera e collegarla alla televisione per poter vedere in diretta tutto quello che succede in giardino. E adesso Lollo vi spiegherà come abbiamo fatto a costruire questa telecamera dato che l'idea è sua. Allora Gabriele vi ha spiegato tutto cosa abbiamo fatto con questa macchina fotografica, no? Non costruisco una telecamera. Allora adesso qua prima di tutto abbiamo l'involtro, questa scatola, dove qua c'è questo pezzo di legno per mantenere fermo la telecamera, no? Quando la macchina fotografica fa la telecamera, quando la stermiamo, e qua sotto c'è di un altro per tenere fermo da sotto e fare un piano, no? Poi gli abbiamo aggiunto questo pezzetto di plastica che gli consigliamo di mettere perché così si rovina meno, no? La macchina fotografica, qua c'è un foro per far passare il filo e qua c'è un foro per far uscire l'obiettivo, no? E adesso comunque abbiamo usato un cavo con collegamento, questo collegamento, vedete qua c'è il collegamento del cavo, per la telecamera, e poi viene collegato ad un cavo RCA molto lungo perché all'inizio il cavetto è corto, l'ho trovato in casa, no? Proprio per puro caso, e ho provato a utilizzarlo, ma è troppo corto. Quindi mi sono procurato dei cavi molto lunghi, che erano per i monitor, e ho prolungato proprio il cavetto, no? Adesso non vi posso far vedere perché è già tutto pronto, quindi non vi posso far vedere la saldatura, il collegamento, magari in descrizione, magari metterò anche uno schema elettrico del collegamento, no? E quindi ragazzi, adesso voi state vedendo qual è più o meno il risultato finale. C'è questa scatola, adesso vedete, la telecamera si accende, viene chiusa la scatola, con l'obiettivo uscirà dalla parte davanti, e qui a lato ci sarà il cavetto che uscirà, e potrà arrivare fino alla nostra televisione. E adesso vi facciamo vedere fisicamente come funziona questa telecamera, e vi faremo vedere cosa si vede dal monitor quando viene connesso alla televisione. Adesso abbiamo questo cavo, abbiamo posizionato la telecamera, macchina fotografica, cebriamo questo cavo, e adesso lo apriamo, facciamo la scatola, apriamo lo sportellino, questo cavo non è comune perché non è quello dei cellulari, che è tipico dei cellulari, è un cavo particolare che viene utilizzato nelle macchine fotografiche digitali, e adesso lo colleghiamo, abbiamo collegato, e accediamo alla macchina fotografica. Poi questo cavo è molto lungo, vedete qua, lunghissimo. Si, passa proprio fa, saranno decine di metri di cavo, un cavo veramente molto lungo. E adesso andiamo in cavernetta a vedere dalla televisione, quel che si vede dalla telecamera. Dai ragazzi, sta per funzionare! E vai, funziona, funziona, vai! Dai che funziona! Aiuto, i miei ghiaccioli! Che ladro!